Conate. Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 8 aprile, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. E' sempre molto alto il dibattito sulle possibili riaperture dopo il 20 di aprile, noi ovviamente vi terremo costantemente aggiornati e continueremo ovviamente a proporvi i nostri punti di vista, i nostri commenti. Questa mattina abbiamo ospite Augusto Goio che è giornalista di Vita Trentina, buongiorno Augusto. Buongiorno a te e ai telespettatori. Come tutti i giovedì cerchiamo di commentare la prima pagina e le pagine interne del settimanale diocesano un po' diciamolo in anteprima. In primo piano vi occupate di edilizia, l'edilizia che lo sappiamo ha avuto molti aiuti in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni perché l'edilizia è un vero e proprio motore per l'economia. Partiamo proprio dal titolo che avete scelto stamane. Sì, parliamo di spintarella non a caso, parliamo di queste ultime agevolazioni fiscali, il cosiddetto super bonus 110%, illustriamo all'interno in un ampio servizio in due pagine cosa si tratta nello specifico appunto di questa agevolazione, questa spinta all'edilizia che è uno dei settori dell'economia che come molti altri ha sofferto particolarmente in quest'ultimo anno di crisi sanitaria ed economica e lo illustriamo attraverso le voci di alcuni addetti ai lavori e anche con una scheda che illustra poi nello specifico i provvedimenti che ricordiamo dai telespettatori vanno nella direzione di agevolare la possibilità di realizzare lavori di efficientamento energetico, antisismici e via discorrendo. Si può fare con modalità diverse sia anticipando direttamente i costi dell'intervento di edilizio che si vuole realizzare oppure scaricando, affidando a una banca o a un altro istituto la possibilità di queste agevolazioni che andrebbero recuperate nel corso di 5 anni dalle tasse che si dovrebbero pagare. Si tratta comunque, come sottolineano gli esperti che abbiamo interpellato, di una manovra che presenta luci e ombre, può essere effettivamente un aiuto all'economia in questo periodo difficile, ma presenta comunque degli aspetti burocratici che vengono evidenziati, in questo senso ci siamo così trattenuti da una enfasi eccessiva e credo che il termine spintarella rappresenti bene anche questi dubbi che ci sono stati avanzati. Sicuramente far ripartire proprio e far partire bene il mondo dell'edilizia e far ripartire un po' il mondo dell'economia perché sappiamo che dietro al mondo dell'edilizia c'è poi tutto l'indotto, quindi chiaramente è molto importante questo come settore. Sicuramente lo sottolinea anche Andrea Basso che è il presidente del Lance, l'associazione dell'edilizia dei costruttori trentini e vediamo anche gli altri esperti, Beppo Toffolon d'Italia Nostra e poi l'esperta della Fillea CGL che è il sindacato di categoria della CGL. Come dicevo prima, misure che sicuramente possono incentivare una ripresa economica che è ben documentata anche dalle immagini del nostro Gianni Zotta ma che comunque presenta degli aspetti problematici che evidenziamo nell'articolo. Torniamo alla prima pagina di Vita Trentina, vi occupate di comunità di valle e soprattutto del futuro delle comunità di valle perché presto, fra qualche mese, si dovrà andare a elezioni. Sappiamo che già i presidenti delle comunità sono di fatto in prorogazio ormai da alcuni mesi. Certo, è questo ente intermedio che ha sostituito i comprensori che erano 11, sono 15 le comunità di valle sono delle realtà che sono state introdotte da pochi anni con una riforma che ha fatto discutere che era osteggiata dalla Lega che ha partito oggi al governo ci sono stati poi dei problemi di carattere legislativo, dei ricorsi, il referendum confermativo è andato a essere solito in un nulla di fatto perché non ha raggiunto il quorum e gli interrogativi sono appunto in vista della scadenza del 16 aprile di che cosa sarà di questi enti intermedi che sono stati in qualche modo bocciati anche a livello statale appunto perché costituiscono una realtà non ben inquadrabile all'interno della nostra Costituzione. Sono necessari degli aggiustamenti, abbiamo interpellato l'assessore competente Gottardi che si è preso tempo per rispondere alle nostre domande e sono in corso delle valutazioni da parte degli uffici tecnici legislativi della provincia e resta comunque come sottolinea Gianni Morandi che è il sindaco di Nago Torbole che abbiamo interpellato resta comunque la validità di queste realtà soprattutto per quello che riguarda le politiche sociali e della casa che appunto chiedono alcuni sindaci che rimangano comunque competenza di un ente sovracomunale e comunque venga poi configurato. Ci siamo lasciati alle spalle la Pasqua con tutti i vari riti pasquali, l'abbiamo ricordato più volte anche quest'anno per il secondo anno, riti molto particolari causa Covid, ma che messaggi Augusto ha voluto lanciare il nostro Arcivescovo, il nostro Monsignor Lauro? Sì, è stata questa la seconda Pasqua decisamente particolare con le norme anti-Covid, il distanziamento e quindi tutti i riti del triduo pasquale sono stati seguiti anche nello streaming online su Telepacio o sui siti diocesani o sul canale YouTube della Diocesi di Trento. Una parola che torna spesso nei discorsi del Vescovo Lauro è quella di adrenalina e anche in questo caso ha voluto dare, soprattutto nell'Omelia di Pasqua di cui vediamo le immagini, una spinta proprio alla comunità, alla comunità trentina, proprio a saper vivere questo periodo con anche una spinta per una ripartenza che dovrà essere anche una ripartenza delle comunità in senso di spirituale e di una ripresa anche della solidarietà che non è peraltro mancata anche in questo periodo. Parole di incoraggiamento che vengono guardando a quella croce da cui poi nasce tutto insomma quello che è per un cristiano insomma è una speranza che si traduce poi nel giorno della Resurrezione. L'editoriale del direttore Diego Andreatta, lo sappiamo solitamente il giovedì, si alternano Augusto con Diego Andreatta qui al mio fianco, parla proprio di pace fra le religioni. Sì, prende spunto dalla morte di Hans Küng, un teologo cattolico discusso ma che come sottolinea il nostro direttore Diego Andreatta più che un ribelle come è stato frettolosamente definito dai media mainstream è stato un pensatore indipendente, libero e ricorda Diego Andreatta la presenza di Hans Küng nel novembre del 1994 all'incontro mondiale delle religioni per la pace, un incontro fortemente voluto da Chiara Lubic e da Don Silvio Frank che era responsabile allora per l'ecumenismo, per la diocesi di Trento, un incontro tra esponenti delle religioni e ricorda il nostro direttore proprio come Hans Küng puntò molto in quell'occasione e anche nelle altre volte in cui venne a Trento e poi a Levico su questa spinta ecumenica che per Trento è anche un po' un lascito che ci ha affidato Papa Paolo VI nel 64, una brezza salita da riva, appunto una spinta che oggi trova nell'espressione di Papa Francesco, di Papa Bergoglio, diciamo quasi un compimento, quindi un ritratto questo di Küng che credo valga la pena di leggere nelle parole del nostro direttore. Anche voi, anche su Vita Trentina, vi occupate dei ristoratori che sono scesi in piazza e poi qui si inserisce chiaramente tutto il dibattito sulle possibili invocate riaperture dal 20 di aprile. Tu che cosa ne pensi Augusto? Ma diciamo che sicuramente, dicevamo prima dell'edilizia ma anche il commercio, la categoria dei ristoratori in particolare ha sofferto particolarmente, ricordiamo che abbiamo non vissuto una stagione del turismo invernale con tutto quello che ciò comporterà, con le code che ci saranno anche nelle nostre valli. In proposito, nella pagina di Riva riportiamo una sofferta testimonianza di uno dei 5.000 lavoratori stagionali che lavorano nel turismo, una testimonianza appunto dal lago di Garda che evidenzia bene tutta la sofferenza di chi si è trovato nell'impossibilità di lavorare con mutui da pagare, affitti e quant'altro. La protesta dei ristoratori, se non trascenda, come è accaduto purtroppo a Montecitorio, a Roma, nella protesta dell'altro giorno, sicuramente è più che legittima. Questi ristori promessi sono in misura probabilmente inferiore rispetto alle attese. Serve uno sforzo collettivo, una solidarietà che vada trasversalmente tra tutte le categorie, mentre come sottolinea e faccio un accenno anche alla rivista che viene inserita in questo numero, il mensile del centro missionario Comunione Missione, si fa riferimento anche in questo caso nell'editoriale di Don Cristiano Bettega alla necessità di una solidarietà trasversale, mentre quello che si vede è un odio tra categorie, quasi una guerra, vorrei dire, tra poveri che sicuramente non fa bene alla comunità. Nelle pagine poi interne ci sono ben due pagine dedicate all'immagine di San Giuseppe nei secoli. Papa Bergoglio ha voluto dedicare quest'anno in particolare proprio alla figura di Giuseppe, una figura che, come evidenziamo in queste pagine, curate da Lorenza Liandro del Museo Diocesano Tridentino, è una figura che è stata riscoperta, scoperta nel corso dei secoli e che nell'arte poi ha trovato delle espressioni significative in molte delle nostre chiese. Sono cinque quelle che proponiamo in queste due pagine che sicuramente presentano una figura di Giuseppe anche inedita per tanti aspetti. Sono immagini molto belle, non ve le abbiamo fatte vedere apposta perché se le volete vedere andatele ovviamente a vedere sul giornale su Vita Trentina. Andate poi a Novaleido nel vostro viaggio, nel viaggio che sta facendo Vita Trentina e siete stati proprio a conoscere gli animatori dell'oratorio. Anche le realtà oratoriane hanno sofferto per questo necessario distanziamento. Il viaggio che facciamo ogni 15 giorni negli oratori trentini, che appunto fa tappa a Novaledo, una realtà vivace con molti ragazzi e ragazze che si sono messi in gioco e in particolare vorrei evidenziare l'iniziativa estiva che nell'impossibilità di incontrare direttamente i bambini ha voluto proporre attraverso dei video una serie di fiabe, quindi hanno adottato questo linguaggio filmico, teatrale per stare comunque vicini ai loro ragazzi e ragazze. Dalle valli che cos'è che ci segnali Augusto? Dalle valli, oltre appunto a questa testimonianza dal mondo del precariato, del lavoro stagionale nel settore del turismo da riva, evidenzierei una ricerca che è stata condotta da una laureanda in scienze sanitarie, Elisa Bressan, che in Valle dei Laghi ha condotto un'indagine sul grado di conoscenza dei centri di ecologia familiare. La nuova espressione, in un tempo si chiamavano centri per alcolisti in trattamento, oggi le dipendenze e le sofferenze sono multidimensionali, come dicono gli addetti ai lavori, e in questo caso questi centri, basandosi sulle tecniche e le strategie dell'automutuo aiuto, si rivolgono appunto a chi vive un disagio e purtroppo una realtà poco conosciuta che potrebbe essere di grande supporto e di grande aiuto anche in questo periodo di post-pandemia verso cui speriamo di avviarci e evidenzia questa ricerca proprio come ci sia un bisogno di far conoscere di più queste realtà così preziose per una comunità. Prima di salutarti Augusto, un'ultima segnalazione che volevi farci? Ma direi di andare a vedere anche Comunione Missione, dove ci sono le voci dirette dei nostri missionari, in questo caso ci sono in particolare delle testimonianze dall'Uganda, dove si è votato a metà gennaio, un paese che è nelle mani di un dittatore, in sostanza, che ha fatto di tutto per impedire le libere elezioni e queste testimonianze vengono naturalmente ritenute anonime per tutelare anche i nostri missionari che se si esponessero direttamente potrebbero avere delle pesanti ripercussioni e ciò potrebbe impedire anche la loro opera così preziosa. Grazie, grazie infinite ad Augusto Goio, giornalista di Vita Trentina. Ricordiamo da oggi il settimanale diocesano è in edicola.